Memorial Angelo Antonio Vitelli, sesta edizione, un anno in più dalla tragica scomparsa del giovane Antonio che venne a mancare a causa di un incidente stradale nel 2011, cosa che all'epoca gettò l'intera comunità alvignanese nello sgumento più totale. Oggi il circolo tennis alvignano vuole ricordarlo così. Il derby alifano tra Giuseppe Panella e Mario Iannotta ha colorato la scena dell'ultimo atto del Memorial Vitelli. L'evento, organizzato dal circolo tennis alvignano, quest'anno si avvale del riconoscimento fit di quarta categoria come anche dichiarato da Antonello Esposito, socio storico e delegato stampa del circolo. A seguire le parole del padre di Antonio, Giovanni Vitelli. Siamo col socio storico del circolo tennis alvignano, nonché delegato stampa. Allora, vogliamo parlare prima della storia del circolo e quindi delle fasi che ha avuto negli anni. Buon pomeriggio a tutti. Il circolo tennis alvignano è nato 21 anni fa. Nel corso degli anni siamo cresciuti, abbiamo svolto diverse attività, tra cui tornei, scuola tennis. Abbiamo partecipato a campionati di serie D organizzati dalla federazione. Quest'anno siamo arrivati, possiamo dirlo, alla ciliegina sulla torta, che sarebbe appunto il torneo Vitelli, di cui a breve si celebrerà la finale. Per questo motivo siamo particolarmente grati a chi ha consentito la realizzazione di questo evento. Il comune di Alvignano che ha patrocinato, il circolo tennis alvignano, ma in particolar modo la famiglia Vitelli che ha voluto fortemente questa manifestazione. È un evento che unisce sport e memoria, giusto? Esattamente, esattamente. Il ricordo è per Antonio, un nostro caro amico, figlio di un tesserato del circolo tennis che è qui con noi. Ed è per lui che veramente ci uniamo, ma soprattutto è grazie a lui che si respira anche poi un clima gioviale nell'arco di tutto il torneo. E quest'anno, come dicevo, siamo riusciti a mettere la ciliegina sulla torta a questo torneo. Grazie al lavoro intenso del direttore sportivo del nostro circolo, Bruno Pagliaro, il torneo ha acquisito la qualifica di torneo federale, torneo fit. Tanto è vero che è un torneo di quarta categoria che ha raccolto ben 54 partecipanti provenienti da tutta la regione campana. Tutte le province sono state raccolte e si sono svolti numerosi incontri. Abbiamo giocato dalla mattina alla sera, proprio con campi occupati in maniera continuativa. Voglio ripetere il concetto di prima, tutto questo grazie soprattutto alla famiglia Vitelli e a Giovanni Vitelli, il papà di Antonio, il quale ha voluto fortemente questo evento, ripeto, e ha dato un sostegno non solo morale, ma anche materiale alla realizzazione dello stesso. Siamo col papà del giovane Antonio, Giovanni Vitelli. Io le do il microfono, lei può esprimere tutte le parole che vuole per un evento tutto suo e di suo figlio. Buon pomeriggio, io ringrazio tutti i colori che hanno reso possibile questo evento, in particolare Bruno Pagliaro che comunque ha interagito con la Federazione Italiana Tennis e ha reso possibile questo torneo di quarta categoria. Grazie, grazie a tutti. Sport e memoria, un connubio perfetto che ha reso il memorial degno del suo nome. Ecco le interviste dei finalisti. Mario Iannotta, uno dei due finalisti. Mario, quali sono le emozioni a caldo, cioè a pochissimi istanti prima della gara? Beh, di sicuro è la prima volta che arrivo in finale, un torneo di quarta categoria, quindi di sicuro c'è molta emozione, ma soprattutto perché sfiderò il mio compagno di squadra della competizione che abbiamo appena concluso nella D2. Quindi di sicuro sarà un po' strano ritrovarmelo contro, però di sicuro cercheremo di dare un bello spettacolo, perché comunque la gente merita, anzi colgo proprio l'occasione per fare i complimenti all'organizzazione del circolo tennis, veramente dal Vignano, veramente eccellente. Difficile trovare circoli che organizzino tornei in maniera così efficace, sì, veramente, davvero. Bocca al lupo allora. Giuseppe Panella, campione uscente, finalista per la seconda volta. C'è un carico emotivo maggiore anche a seguito del riconoscimento che questo Memorial ha avuto quest'anno? Sì, potrebbe, ma si deve vedere sempre durante la partita, insomma. È una cosa che potrebbe influire, ma altrettanto potrebbe anche non influire. Quindi dipenderà da come inizierà la partita, da come continuerà, ma dato che ci conosciamo, il mio avversario Mario, penso che sarà una partita carina e avvincente e quindi penso che la tensione venga subito eliminata fin dall'inizio, da entrambe le parti, diciamo. Accantoniamo un attimo la tensione, parliamo dell'allenamento. Quanto ti alleni per arrivare a questi risultati? Adesso poco e molto poco perché sto studiando, quindi non è più, cioè diciamo il tennis non è più il mio obiettivo primario e quindi diciamo è soltanto uno sport che faccio per divertirmi e mi alleno poco, purtroppo. e quindi cerchiamo di fare quello che si può, insomma, con ciò che ci ricordiamo dai vecchi insegnamenti che abbiamo avuto negli anni passati. Però ci divertiamo e quindi si continua a farlo. Poi magari in futuro riprenderà come un'attività più seria, forse, non lo so, però è probabile. Ci lasci con questa speranza? Sì, sì, forse sì. Magari quando lo studio inizierà anche un po' a tranquillizzarsi proprio come attività, si potrà anche riprendere a giocare al tennis più seriamente. E allora Giuseppe, in bocca al lupo? Crepi, grazie. E dal Circolo Tennis di Alvignano è tutto, Mariangela Marotta per casertasera.it